questa è la roma come ogni venerdì insieme a voi stapp radio stefanotini si torna al passato si trasmette al presente rda radio 1 roberto de angelis naturalmente il circuito è quello di spreaker spray hacker con la cappa diamo il più cordiale buon pomeriggio gloria vaida ben risentita ciao gloria come stai ciao roberto buon pomeriggio a tutti sto bene sto bene a caldata va bene sì anche perché è tornato sto caldo africano di cui non se ne può proprio più no basta direi anche basta grazie abbiamo abbiamo dato pure troppo in cambio è vero è vero però non comandiamo noi la meteorologia gloria vaida allora c'eravamo lasciati pieni di speranze per questa nuova roma ci hanno esaudito su un aspetto perché è andato via il preparatore atletico è cambiato lo staff sanitario adesso abbiamo professionisti a quanto pare poi bisognerà vedere coi fatti all'altezza della situazione la squadra sono arrivati nuovi elementi altri ne dovrebbero arrivare fino alla fine del calcio mercato però abbiamo cominciato quella trasferta di verona dove c'è stato qualcosa che non ha proprio quadrato secondo te è così o la prima partita può essere anche di transizione no allora non è così perché dal momento in cui fai degli investimenti su un calciatore in special modo come zedo non può permetterti di pareggiare con il verona anche se loro hanno attaccato sono state delle bestie veramente allucinanti però non puoi c'è lì ha sbagliato persia perché a certo momento doveva fa uscire giardini e fa entrava francesco totti invece fa usci spada secondo me non c'è credo niente che sia non all'è sta bene con la partita il mio più grande paura è che il giardino sarà sempre comunque di dolare dimmi è stato il tema dominante della prima parte della nostra trasmissione perché in chat la gente ha scritto qualcuno ha scritto pure in maniera molto forte che il giardino se ne deve andare via insomma sono d'accordo nel senso che il giardino è stata una grandissima sorpresa al primo anno tutti pensavamo che era una pipa al sugo no la prima sono stata io a pensare poi c'ha due piedi fucilati perché proprio però rincolidoneva le difese sulla fascia correva che veramente nella serie dava la spalla a giardino e si abbracciamo però quando il primo anno è stato meraviglioso è stato fondamentale per il gioco di ludicastia poi però si è perso si è proprio perso specialmente poi da quando è tornato dalla coppa d'africa era riconoscibile proprio e poi mettiamo bene in chiaro le cose io non sono una che prende conto il dito contro la società o contro la squadra cerco il più possibile di essere obiettiva e comunque di stare vicino a una squadra e di difenderla per quanto posso però non fare nemmeno una deficiente che non vede le cose e perde la serie la Roma non si discute si ama i deficienti lo fanno perché le persone intelligenti le persone che hanno in questo senso critico devi fare delle critiche costruttive le fai non per questo non significa che io ho una mia squadra secondo me l'università deve cambiare modulo con Gego non può continuare a fare 4-3-3 non se lo può permettere specialmente domenica cioè domenica ragazzi non ti dico che ci giochiamo lo scudetto ma una bella botta sul chiodo per attaccare son scudetto gliela possiamo dare cioè noi siamo stati fortunati domenica che la Juventus ha perso con la partita però non possiamo andare avanti con le disgresse altrui noi abbiamo del materiale umano che non avevamo lo scorso anno quindi il calco di qualità ci deve stare io me l'aspetto perché se tu mi compri Zego e Zala non puoi continuare a fare le partite pretine come sarà fatta quella del Verona capisci come voglio dire e non puoi farmi fare Florenzi a relegarlo a Terzino non è il suo ruolo anche se lo fa bene ma non è il suo ruolo non dà il 100% di Florenzi però cambia un po' di cose contro la Juventus a sinistra giocherà Digne e se Maicon ce la facesse e gioca Maicon dal primo minuto e Florenzi dovrebbe andare leggermente più avanti altrimenti è Florenzi il terzino destro questo ci dicono i fatti prima di essere schierata alla Roma in campo sì ma io non sto dicendo che non lo voglio come terzino destro secondo me è sprecato ecco questo voglio dire però ecco già il fatto che Digne giocherà domenica mi auguro insomma abbiamo avuto il tempo di ambientarsi di percepire bene gli schemi dell'allenatore però io voglio farti una domanda se noi l'anno scorso abbiamo avuto un'annata secondo me un po' disastrosa con quella asfiltra dei pareggi che avremmo potuto vincere siamo arrivati secondi e non avevamo un attaccante titolare quest'anno che ce l'abbiamo ed è io quando ho visto Roma Civile ho fatto Dio che benedica cioè allora Dio esiste capito no? e abbiamo un attaccante come Zeco ma tu non ti aspetti una squadra diversa? io me l'aspetto e come? abbiamo ritrovato Castan che sta recuperando e grazie a Dio insomma sembra che piano piano ce la stia mettendo tutta l'ho visto molto pronto anche a livello psicologico certo ci vuole ancora un pochino di tempo per rivedere il Castan nel famoso primo anno di Tertia però comunque c'è Manolas c'è Pianic sta un po' a perde però c'è Stani comunque Keita che c'è esperienza c'è Nengolan che mamma mia è sempre presente e pronto c'è Sala che a me piace tanto mi piace veramente molto poi Gervini cioè Gervini per me è l'incognita io non mi fido di lui capito? perché è quel tipo di giocatore che ti può fare una partita eccellente e la partita dopo pessimo cioè non è equilibrio va scommessa capito? se lo puoi giocare a Seai no? giocherà bene? giocherà male? eh Gloria tra i turbe Gervinio e il barbo li cederesti tutti e tre o chi terresti fra i tre? tra i barbo ciao Gervinio ciao ne proprio no io mi tengo i turbe che però sembra destinato alla Sampdoria o al Genova addirittura pensa un po' sì al Genova ho sentito insomma sì ascolta Gloria di questo scambio Juan Jesus Liach che ne pensi? per me è un dolore ma Juan Jesus può essere il difensore che va a completare la rosa difensiva della nostra squadra io ho qualche perplessità perché è un bel gigante però comunque deve fare un difensore centrale ci serve sì però ha delle ammenesie in campo che a volte sono paurose a fare degli spazi incredibili sì quello è vero guarda tu sai quanto io ho sempre stimato moltissimo Liach a me piace come giocatore è discontinuo anche lui per carità però non ci scordiamo che lo scorso anno è stato al campo canoniere della Roma però se lo devo cedere per avere in cambio un giocatore che mi dà tranquillità serenità allora lo faccio volentieri anche se cominciamo a dar via tutti questi esterni cioè dobbiamo pregare a dire che questi si fanno male perché se no sono messi in problema luccio anche perché poi il sostituto di Zego ma chi è? eh non c'è perché è stato detto da qualcuno in chat Francesco Dotti ma Francesco Dotti è un altro ruolo è un altro tipo di gioco non ti fa Francesco Dotti può fare tutto può fare pure il portiere a proposito del portiere coso perché guarda sono settimane che cerco di pronunciare quel cognome ma non ce li ho se ne ce li eh beh io lo chiamo coso faccio prima coso ma oddio coso è brutto però eh vabbè dai a Roma che cosa ma sai che cosa io sono rimasta cavolo un portiere che para cioè veramente mi dispiace di De Santis ma mi sa che De Santis la porta la vedrà poco e niente ma io voglio lui cioè a me mi dà sicurezza quel ragazzo e poi è pure il giovane porca miseria vabbè De Santis ha pure 38 anni dovrebbe pure capire che potrebbe fare il portiere di riserva tranquillamente no ah senz'altro senz'altro eh Snezni oltretutto esce dalla propria porta sa fare anche il libero pensa che ti dico sa anche dribblare speriamo che non ne abusi troppo di questa sua qualità no lo credo lo vedo molto concentrato sulle due cose rispetto a De Santis a Morgan che invece non si schioda dalla sua porta e poi c'è anche quello c'è una cosa molto diversa non so se ci avete fatto caso con De Santis il rinvio lo fa bene De Santis se la manda in braccia di stelle la valla quando faceva il rinvio invece lui la mette proprio bene cerca di poterla dare al compagno proprio quando fanno i lanci lunghi no? si mi fa bene è misurato nei cross praticamente nei rilanci dalla sua porta è vero è vero è vero è vero è una Roma ancora sfilacciata e lenta secondo te? eh sì secondo me vedremo non lo so guarda te lo giuro non lo so non so che dirti perché io ho sempre paura di stelle non lo so perché io ho una sensazione molto forte di quest'anno però devono cambiare alcune cose il modulo di gioco Rui Cazzia si deve mettere in testa che quando incontra alcune spalle lo deve cambiare punto quello è fissato è fissato ecco questo 4-6-3 ormai il gioco della Roma le altre squadre di Serie A l'hanno capito lo sanno lo conoscono e quindi ti bloccano i giocatori e stanno tutti che giocano 10 in difesa e tu come costruisci il gioco? non puoi no? perché è chiaro che gli avversari ti conoscono adesso si chiudono è normale esatto quindi cambia il gioco cavolo non c'è non c'è l'intelligenza io non sono un allenatore di calcio però in Italia ci arrivo ormai il primo anno l'abbiamo stracciati tutti perché si sono trovati questa macchina di guerra perché ora dove era la macchina di guerra il primo anno dei cazzieri ormai hanno capito il gioco il trucco l'hanno capito quindi continuare a riproporlo cambiare qualche modulo di gioco o in più qualche partita importante evitare di far giocare sempre Gervinio perché alcune partite Gervinio proprio non c'è capisco che Francesco Totti ha 39 anni quindi tanto non può fare però è quel classico giocatore che basta un tocco suo per cambiare la situazione perché come la mette la palla lui in braccio agli attaccanti non lo fa nessuno quindi se ci fosse stato Francesco Totti domenica con la mia giocare con più Verona che lanciava la palla per seco si è proprio segnato io ho visto zero che si andava a prendere la palla al centro campo cioè lui deve stare là davanti tu calciatore collega gli devi dare la palla gli la devi crossare gli la devi mette in bocca o sui piedi così lui spinge e la mette dentro giusto questo è il ruolo che c'ha Zego non pensate che deve andare a prendere la palla al centro campo non si deve costruire lui il gioco oddio lo può anche fare per carità perché no però se la squadra è costruita intorno per aiutare questo giocatore facciamolo allora al momento in cui vedi quel cretino che prende e corre e poi si fa tutti e si dribbla pure da solo e poi alla fine perdi la palla non ha senso non ha senso è un disco una squadra moscia mi dispiace ma perlomeno è quello che ho visto fino a domenica è una squadra moscia io voglio una squadra di indici incazzati voglio vedere scendere in campo con la bava alla bocca c'erano incazzati e non c'è non c'è anche perché abbiamo di fronte la Juventus se fai gli stessi errori tecnico-tattici del Bentegodi di Verone questi ti purgano ti puniscono senza la minima di dubbio la voglia anche se loro si sono rafforzati molto meno di noi ma noi ci siamo rafforzati di più con gli acquisti dei giocatori ma se poi non facciamo in modo che questi nuovi giocatori mettono in pratica le loro capacità è inutile è come se non ce l'avessimo è vero è un'analisi molto attenta razionale fredda e lucida Gloria Vaida invece un attimo il pizzico della tifosa ho qui subito il direttore di testata che ha addrizzato le antenne calma non dobbiamo dire niente di trascendentale l'istinto della tifosa per Roma-Juventus che ti consiglia che ti suggerisce che ti dice ti fa tornare o ti dice signorezza io voglio le piagne io voglio le piagne che lini ma proprio piagne piagne non sai che voglio rivedere Robè te lo ricorderai sicuramente quando la Roma vinse a Roma contro la Juventus 4-0 il gesto che fece Totti e Titti 4 e andare bene a casa io quello voglio rivedere guarda ti posso dire che basterebbe pure un autogol al 95esimo purché si portino i tre punti a casa oddio le coronarie salterebbero tutte però anche quello ci sta bene dobbiamo conquistare questi tre punti e li conquistiamo meritatamente e correttamente sul campo senza l'aiuto dell'arbitro tra parentesi sì che poi c'è quella storia della serie mamma mia speriamo bene insomma che c'è questa partita gloria la vedrai la partita la vedrai la partita o la sentirai che fai no no la vedo allora mia sorella mi aveva chiesto di andare con lei allo stadio e io gli ho detto no per due motivi il primo alle serie del pomeriggio con sto caldo non esiste proprio al mondo muoio il secondo meglio di no perché se no mi arrestano perché se succede qualcosa in campo e l'arbitro fa qualche cosa contro la Roma io faccio un'invasione di campo prendo l'arbitro gli do tante figure le capocciate lo faccio diventare nero quindi ogni vita la cadera ho detto no gloria è una partita di calcio però la fin fine no eh sì fino a un certo punto è una partita di calcio perché a me gli arroganti e i superiori quindi che con il mio di nero compio questo ne faccio questo ne no non mi piacciono l'ingiustizia io non l'ho mai sopportata sono una persona corretta amo la giustizia quindi siccome gli arbitri sono tutti dipenduti secondo me quando si gioca contro la Juventus saresti visto qualcosa io avrei fatto ti giuro eh tanto terza per terza io sarei tolta la soddisfazione da andare lì a gonfiarlo le botte guarda è vero pronto? eh sto qua sì 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 ero andate via per un attimo la linea e beh questa sensazione chiaramente istintivamente ce l'abbiamo tutti poi dobbiamo saperci mantenere perché diciamo siamo esseri civili però davanti a certe situazioni io ho davanti gli occhi la gara di ritorno dell'anno scorso eh ti giuro che non sono così calmo e diplomatico come quando sono dietro un microfono divento un po' più irrescibile perché torti di quel genere non si dovrebbero più ripetere eh no no infatti infatti per quello che ho evito di andare allo stadio perché conoscendomi so che io farei un casino io so che farei un casino è vero Gloria Vaida noi ci lasciamo per oggi con la guida non mi fai una cosa su devo dire una cosa che ci tengo tanto su chi? aspetta allora grazie grazie addio cioè grazie a Dio esisti ti voglio tanto bene sì ci hai tolto destro dalle palle ti ringraziamo tanto ciao ne destro non posso dire non è stato un piacere aversi nella mia squadra questo è congeficiente nemmeno assegnato contro sì però all'inizio era andato meglio questo tipo di rapporto poi si è guastato piano piano nel corso del tempo perché all'inizio era arrivato un ragazzo modesto tranquillo umile ah io pensavo il mio rapporto con lui e poi devo dire un'altra cosa a Romagnoli devo dire una cosa a Romagnoli cerca di dirla in termini sì sì no tranquilla no sono tranquilla allora se lui fosse tifoso dell'altra squadra non ci trovo niente di strano nel senso che è tifoso di quello che vuole anche perché Andrea è da Roma quindi lo chiediamo facciamo 1-1 no? sì però che tu fai quelle dichiarazioni e dici non sei rimasto alla Roma neanche se fossi di dorare allora lì mi cazzo perché dico uno ma chi che ci faceva di dorare due però finché ci hai mangiato con i forzi dalla Roma andava bene il suo stronzo e con questo no 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 Gloria certe parole però bisogna evitarla a microfono acceso allora si può dire però tranquillamente che le dichiarazioni di Romagnoli sono state scorrette al massimo nei confronti della Roma e dei tifosi giallorossi questo sì poi bisogna mettere dei paletti e dei confini anche se spiritualmente siamo tutti con te però finché gli ha fatto comodo che ci ha mangiato e la Roma gli ha pagato gli è andata bene è certo è certo lui pensava di ritornare a fare il titolare della difesa probabilmente Garzia non gli ha dato questa difesa ma io ho visto come ha fatto adesso ha fatto bene rigore è apposta per cui ancora ancora Derba ne deve calpestare per diventare un ottimo difensore centrale forse ce la farà ma rimane l'amaro in bocca e rimane anche a me e a Virgilio perché l'anno scorso noi predicavamo che fosse la colonna della difesa giallorossa lo stesso Virgilio che l'aveva sempre difeso quando ha sentito quelle dichiarazioni ha detto ha fatto bene andarsene a Milano 100.000 miglia distanti dal naso nostro stop gli auguro tutti i beni da calciatore da professionista però secondo me saprò che c'è quando guarda un altro salterà il karma chiamolo come vuoi quando un giovedore che ha giocato nella Roma e poi va via per qualsiasi tipo di motivo e comincia a spudare senza sulla Roma e succede sempre proprio alla discesa a picco tutti male hanno male ma proprio si perdono il dimenticatoio non si sa com'è è il karma secondo me è come il karma sì 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 vabbè ma Romagnoli rimane al Milan e noi amiamo la nostra Roma è stato meglio così magari all'inizio io sono stato tra quelli che ha detto ma no Bertolacci e Romagnoli dovevano ritornare con la maglia giallorossa poi Bertolacci voleva fare per forza il trequartista titolare e vabbè però quella è una scelta di campo lui Romagnoli con altre dichiarazioni che sinceramente mi hanno lasciato l'amaro e la mortificazione in bocca perché tu puoi dire benissimo vabbè a Roma forse non avrei giocato di dolare il Milan mi ha dato questa prospettiva questa possibilità vado al Milan dire altre cose te le potevi risparmiare perché Roma ti ha sempre portato su un trono i tifosi ti hanno sempre amato e certi già sapevano che non eri nemmeno tifoso della squadra dove giocavi ti dico pure questo ma io non lo sapevo no però voglio dire non discuto quello perché voglio dire ognuno cioè quelli che giocano nella Roma non è che devono essere per forza tifosi della Roma come Francesco Tosti o Berotti o Florenti è normale città però sei un professionista e lavori ma perché ti dico faccio l'esempio di Candrera gioca nella Lazio eppure è tifoso della Roma però lui il suo dovere lo fa ma non fa gli idearazioni di questo tipo no non mi sembra quindi qui c'è proprio la maturità che non c'è non c'è maturità e poi non c'è maturità puoi essere anche il più bravo calciatore del mondo però non vale niente non fare mai carriera guardati Balotelli è forte come calciatore però come uomo non vale niente e guardare fino a fatto Cassano non patate quindi voglio dire puoi essere anche bravo il fenomeno però se non sei un uomo non sei un uomo di carattere un uomo maturo non farai il successo che ti meri di fare e vedi per esempio Francesco Dotti è un fuori class è un fuori class sia in campo che fuori quindi e vedremo adesso come andrà domenica pomeriggio questa Roma Juventus non diciamo nulla però ci lasciamo con dai e Roma dai e forza Roma asfalta asfalta stavo pedinando che orbelleria pure io perché mi sto accendendo pure io asfalta questi avversari perché si meritano di essere asfaltati calcisticamente Gloria un grande abbraccio e buona domenica buon fine settimana grazie anche a te buon fine settimana a tutti ci risentiamo venerdì prossimo grazie Gloria ciao bella ciao ciao grazie alla simpaticissima Gloria Valida che non le manda certo a dire noi ci fermiamo un attimo tra un po' il prossimo collegamento grazie